andiamo a giocarci in questa gara incredibile prima gara del campionato di motocross siamo all'osail tutto defilato il nostro mattia che parte molto crescivo watson gli rompe un po' le balle parte molto aggressivo mattia ricordiamo che giochiamo con 5 riavvii proprio vista la complessità di questo gioco e che i punti li diamo e solo ai primi 10 per mare avvio ce lo giochiamo qua corregge la mattia molto bravo il problema di questo gioco e e uscire ah errore 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 giochiamo il secondo riavvio e si chiude il primo giro primo giro concluso due riavvi però buttati sportellata maligna dosiamo il gas molto bene è veramente una battaglia è veramente una battaglia ho messo anche i freni dissociati per avere un maggiore controllo io non sono molto capace però devo dire che è un gioco estremamente divertente e per come la vedo io è anche allenante quando poi si gioca anche con moto gp gambetti veramente è scatenato mi preoccupa il fatto di essere mangiato due riavvii però sto giocando bene sto giocando bene qua veramente la correggiamo con le unghie parte abbastanza facile bravi perché non ci siamo mangiati riavvii in questo giro un giro molto buono davanti cairo li ingaggia un duello e noi li purghiamo qua all'interno e ora apnea totale tre riavvii giocabili una condizione così non ce la saremmo mai aspettata tra l'altro questa è la prima gara è la prima gara cominciare un campionato con i 10 punti gambetti non l'avrebbe mai sognato e così anche il cavara racing ma veramente ci attaccano ogni errore è buono per attaccarci clamorosamente cairoli cliente scomodo dai mattia crediamoci non è impossibile anche perché abbiamo tre riavvii ricordiamolo si arriva in questa curva dosiamo benissimo il gas qua nel punto dove in genere abbiamo sempre dei problemi però mattia è davanti ultima curva ultima curva la fa bene la fa bene la fa bene così e andiamo schiantandoci in mezzo al pubblico andiamo così prima vittoria prima gara prima vittoria mamma mia mamma mia